ciao mi trovo sul sito di edra.com un sito che vi consente di creare avatar parlanti e quindi anche cantanti molto semplice da fare vi scrivete anche tramite discord mail password molto semplice ci sono ovviamente i piani gratuiti e i piani a pagamento ma andiamo con ordine andiamo a creare direttamente un nostro avatar clicchiamo qui su create allora qui ci sono varie cose da poter fare innanzitutto possiamo generare l'audio genera audio da testo quindi possiamo scrivere un testo e quindi lui andrà a generare l'audio in base a quello che noi scriviamo possiamo importare l'audio quindi un file audio che sia un podcast oppure una canzone oppure possiamo anche registrare la nostra voce ok start recording andiamo a fare la prova con ordine a generare l'audio ciao mi chiamo massimiliano e sto facendo un tutorial su edra ai possiamo vedere selezionare la voce shoes and voice ovviamente sono voce a pagamento e voci gratuita selezioniamo todd ok quindi in questo caso noi abbiamo scritto il nostro testo adesso dobbiamo creare l'avatar un'immagine che si muove sostanzialmente allora possiamo innanzitutto possiamo caricare l'immagine cliccando qui io in precedenza avevo già creato un avatar con un altro programma un programma di tik tok sostanzialmente posso anche utilizzare la fotocamera quindi scattarmi una foto quindi clicco qui lui mi va capture us dis quindi utilizzerà la mia immagine mia foto oppure la posso creare tramite descrizione qui vi consiglio di scrivere in inglese che a volte l'italiano non lo comprende allora e voi with glasses and brown air quindi con capelli scusa clicco con su create aspettiamo ha generato questo personaggio ovviamente possiamo sempre modificare alcune cose possiamo migliorare la texture i colori scrivendo una nuova descrizione stilizzare eccetera eccetera quindi notare che noi abbiamo creato il nostro la nostra immagine ok e quindi abbiamo scritto la descrizione il testo possiamo cliccare su generate video ci metto un po quindi in base a quello che è descritto qualche secondo qualche minuto quindi ha completato la generazione dell'immagine andiamo a cliccare ciao mi chiamo massimiliano e sto facendo un tutorial su edra ai ciao mi chiamo massimiliano e sto facendo un tutorial su edra ai vedete l'avatar ha detto ciò che io ho scritto ok utilizzando la voce di todda come dicevo possiamo anche registrare la nostra voce tipo stat recording ciao mi chiamo massimiliano sto facendo un tutorial in merito alla generazione di avatar tramite edra ai li ascoltiamo ciao mi chiamo massimiliano sto facendo un tutorial in merito alla generazione di avatar tramite edra ai a questo punto potremmo utilizzare lo stesso avatar oppure modificarlo come volete voi utilizziamo lo stesso avatar andiamo sempre cliccare su generate video e attendiamo il processo di creazione di generazione ci vediamo dopo ok ha completato e quindi adesso andiamo ad ascoltare cosa dice ciao mi chiamo massimiliano sto facendo un tutorial in merito alla generazione di avatar tramite edra ai quindi come avete visto come avete ascoltato ha generato l'avatar con la mia voce ora cosa ci interessa a noi oltre a questo possiamo far cantare il nostro avatar ovviamente importando un file di una canzone la canzone si intitola senza senso quindi non sta caricando il file mp3 silenzio silenzio questa è una canzone senza senso all'effetto dell'assenzio di questi file musicale ovviamente la canzone la possiamo far partire da dove vogliamo noi possiamo sempre modificare tramite questa barra l'inizio e la fine della canzone quindi noi facciamo partire dall'inizio quindi al solito possiamo modificare l'avatar utilizzare lo stesso avatar utilizziamo lo stesso avatar e clicchiamo sempre su generate video quindi lui al solito sta generando utilizzando adesso l'avatar utilizzando il file musicale ha finito di generare andiamo a cliccare silenzio silenzio questa è una canzone senza senso all'effetto dell'assenzio silenzio 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 in un mondo di tacito senso faccio una canzone senza senso sì sì senza senso ho tutto senso ok avete visto vedi ascoltato ha cantato la canzone che trovate vende su mio canale youtube quindi vi ricordo una cosa allora il piano gratuito vi consente di fare di inserire file audio di massimo 30 secondi ok che poi magari potreste estendere però poi verrebbero due video separati e poi dovreste poi unirli ovviamente successivamente invece ovviamente sono vari piani allora il piano gratuito free quindi 0 euro vi permette di fare 5 video al giorno video lunghi fino a 30 secondi no commercial uso quindi non potete monetizzare i video fatti tramite il piano gratuito per monetizzare con i vostri video dovete avere un piano a pagamento il basic e di 10 euro al mese vi consente di fare fino a 20 minuti di video al mese e i video lunghi fino a un minuto quindi commercial use no watermark quindi la filigrana ovviamente verrà tolta addizionare video 50 centesimi al minuto poi abbiamo il professional sono 50 euro al mese sono 110 minuti di video al mese e poi i video lunghi fino a 4 minuti ok quindi una canzone intera pop ci entra perfettamente e poi enterprise customer pricing cioè il prezzo lo decidete voi in base alle vostre esigenze quindi le contattate in base alle vostre esigenze verrà generato il costo mensile da pagare quindi edra.com un sito davvero utile per chi vuole creare video con avatar parlanti e avatar cantanti ok vi lascio il link in descrizione se il video vi è stato utile condividetelo su whatsapp facebook ovunque commentate e lasciate un like ci vediamo presto in un prossimo video ciao